Dove sono io? Che ne è di tutti? Dove sono i miei amici? Deve capire che chiunque lei conoscesse è morto da quasi 200 anni. Perché non erano vegetariani? Lei ora è nell'anno 2173. Qui siamo sul parallelo centrale della federazione americana. Questo distretto è quello che forse lei chiamava Stati Uniti Sud Occidentali. Questo prima che fossero distrutti dalla guerra. Guerra? Sì, secondo gli storici, circa 200 anni fa, un certo Paolo VII si impadronì di una bomba atomica. Lei starà nascosto qui per due settimane. La sottoporremo a una serie di test. Poi, quando avrà recuperato completamente le forze, discuteremo il piano. Ancora non posso crederci. Starò nascosto, ma da chi mi nascondo? Cosa significa? Tanto vale che sappia, Mike, che averla riportata in vita è stato un grave atto contro la politica del governo. Sì, un atto altamente illegale, Mike, e se ci scoprono saremo distrutti insieme a lei. Come distrutti, Mike, come distrutti? Il suo cervello sarà semplificato elettronicamente. Il cervello, il mio secondo organo preferito. Chi riesce a farlo?